e direi ma andiamo a questo bravo il fiore, il fiore, prendi il fiore, prendi il fiore, prendi il fiore buona il fiore il fiore, il fiore cosa sta succedendo? non abbiamo più la curva e ci sono scontate le gambe ma sempre con le gambe come facciamo a respirare? venite, venite venite con me, vi porto sulla fiaggia muotiamo fine 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 line fine 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 Grazie a tutti.